grande fratello alfonso signorini ha scelto i suoi vipponi ecco chi sono nomi eccellenti e adesso vi parliamo del grande fratello che è in partenza a breve ovviamente su canale 5 e questo anno ci ha pensato il sito di davide maggio a svelare in esclusiva i primi otto concorrenti famosi che saranno dentro la casa tra i primi concorrenti ci sono volti noti dello spettacolo ci stiamo riferendo l'attrice Chloe Sobert, il ballerino coreografo e marito di Carmen Russo ossia Enzo Paolo Turchi la web influencer Giulia Mannucci, la nota modella Havana Krastez che ha già fatto l'isola dei famosi e molto amica di Nikita Kauzen, l'attore spagnolo Iago Garcia, la cantante Jessica Morlacchi l'attore Clayton Norcross e il trio delle tre ex ragazze di Nonella Rai, ossia vi stiamo parlando di Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo che saranno però non tre concorrenti, ma solamente uno, almeno all'inizio poi vedremo sempre dal sito di Davide Maggio apprendiamo che dentro la casa ci saranno anche l'attore Luca Calvani, vincitore dell'isola dei famosi e la ballerina, ex concorrente di Amici, Evelina Distriscia la notizia Shia e la gatta il programma andrà in onda due volte a settimana, il conduttore sarà Alfonso Signorini affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social ecco quindi chi sono i concorrenti del nuovo reality Clarissa Barth, Clayton Norcross, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Elena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Shaila Gatta Grazie a tutti